Una visita annunciata con un biglietto inviato, una decina di giorni prima, dall'alto prelato. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nel primo pomeriggio di ieri, dopo il consiglio pastorale di Triugio, si è presentato alla porta di Don Giorgio De Capitania, alla Valletta Brianza, in provincia di Lecco. L'incontro con il sacerdote condannato lo scorso 11 novembre per aver diffamato il leader della Lega, Matteo Salvini, è durato una trentina di minuti. «Gli ho detto tutto quello che dovevo dire e l'arcivescovo mi ha espresso la sua solidarietà, al di là del modo di pensare di ciascuno», spiega Don Giorgio. «Non è difficile vedervi una scelta esplicita della chiesa milanese, che ha voluto stare vicino a un prete anti-salviniano, nell'anima e nel corpo». È andato a trovare un suo prete, come fa con tanti altri, precisa la Curia di Milano, sottolineando come Delpini si è solito visitare i sacerdoti della diocesi ambrosiana. Don Giorgio, 81 anni, ex parroco di Monte Rovagnate, è stato condannato dal giudice del Tribunale di Lecco, Nora Lisa Passoni, a pagare 15.000 euro tra sanzione pecuniaria, spese legali e risarcimento all'ex ministro. Il religioso è stato ritenuto colpevole per i pesanti insulti rivolti al leader del carroccio in quattro post pubblicati sul proprio blog tra marzo e ottobre 2015. Ed è proprio su questo blog che il prete, ieri, ha postato la foto dell'incontro con l'arcivescovo insieme al biglietto ricevuto una decina di giorni fa. «Non tutto il male viene per nuocere, chi osa Don Giorgio?» La sentenza di condanna è stata una bomba che ha scatenato anche un'apertura provvidenziale dagli aspetti diversi, dalla mia presa di coscienza, che per certe battaglie politiche e anche ecclesiali non occorre insistere perennemente sullo stesso metodo, ma a un certo punto si deve cambiare tattica, fino ad assistere quasi meravigliato al risveglio di quella chiesa milanese che negli anni passati ho combattuto forse con troppa audacia, visto che man mano che il tempo passava il silenzio si intensificava come una cappa di piombo. A tendere la mano dunque Monsignor Delpini. All'indomane della sentenza Don Giorgio aveva scritto «Nelle querele, nelle condanne mi frenano, anzi servono a stimolarmi con maggiore determinazione, spezzatemi pure, ma non mi piegherò». Grazie. 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 dalla viva